Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle gare malate questa gara si fa con le auto super, ci sono anche tra l'altro le auto personalizzate quindi ovviamente ho preso la mia super entity che è al massimo vediamo un po' già subito esplosione a raffica però io non sono esploso per fortuna siamo in 6 giocatori e la descrizione ovvero il titolo della gara è Bigger Wild Ride ovvero Wild Ride gigantesco anche perché ci sono due giri quindi voglio proprio vedere come andrà a finire al momento sono primo al momento incomincia la caccia a fare questo tipo di Wild Ride dato che è abbastanza lungo da come vedo da entity, da questa volta ce la faccio da entity merda merda lo sapevo è troppo lungo, è gigantesco veramente questo Wild Ride dai riproviamoci questa volta, niente da fare, quello che mi spinge da dietro vediamo un po', attenzione, urca, quello va fuori, attenzione stiamo un po' in su, stiamo un po' in su, non troppo, merda, non troppo allora i giri sono due, io non ho neanche completato il primo Wild Ride defiguriamoci il secondo giro, c'è gente che ha concluso in prima posizione dai che ce la faccio, dai, dai, ragazzi adesso non è più, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio ce l'ho fatta ragazzi, incredibile, ce l'ho fatta mamma mia ragazzi, finalmente dopo quasi 5 minuti ce l'ho fatta a fare il primo Wild Ride e a concludere il primo giro in quarta posizione posizione, secondo me sono lo stesso male perché comunque siamo in 6, però ragazzi fa niente merda non sto mai attento, parlo sempre quando devo girare e poi mi vado a scantare come un pirla però ragazzi dai, ci sta come Wild Ride, anche se comunque ogni cosa che faccio a me mi fa tribulare ma è normale adesso continuo la gara senza molti problemi o almeno spero perché sapete bene che anche questi semplici container esplosivi sono veramente pericolosi per me dai, dai entiti, dai entiti evitiamo le macchine, perfetto ci risiamo, ci risiamo, eccoci qua attenzione, perfetto ragazzi vediamo un po' stavolta quante volte riesco a fare sto Wild Ride attenzione, attenzione ragazzi, di nuovo dai ragazzi, no fermati merda cioè sono rimasto sopra il tetto io sono un genio a rimanere sopra i tetti ragazzi, questa è una cosa che voi non sapete fare niente ragazzi, dobbiamo riprovare sono secondo però, sono secondo, mica male dai, 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 questa volta è buona da questa volta è buona, di nuovo, no ferma madonna, ce l'ho fatta ragazzi, incredibile non ci posso credere seconda posizione per me ragazzi, non ci posso credere come al solito sbando perché non riesco a atterrare bene ma ragazzi concludo in seconda posizione in una gara che mi ero veramente messo malissimo all'inizio niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like, un commento iscrivetevi al canale e da Orquard è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella